Ciao a tutti, nel video di oggi parliamo di smalti bubble, ovvero i nuovi kit Pupa composti da uno smalto lasting color e da una bocettina con delle sferette di vetro abbinata. Bene, per rimuovere gli smalti bubble è necessario l'utilizzo del solvente, quindi il classico solvente per unghie. Quindi ci serviranno dei dischetti di cotone che potremo utilizzare interi o anche divisi a metà o in più parti appunto a seconda della lunghezza delle vostre unghie o come siete più comode e il rasmalto per unghie Pupa. Prendo appunto il solvente e lo metto nel dischetto di cotone. Dopodiché posiziono il dischetto di cotone sopra l'unghia e lo lascio agire per circa un minuto. Lo faccio aderire bene in modo che appunto il solvente sciolga lo smalto come accade solitamente e dopo un minuto tiro via. Vedete? Le perline rimangono tutte all'interno del dischetto. Puliamo bene i laterali, quindi tutto nel giro cuticole. E come vedete l'unghia è libera da qualsiasi smalto o pallina come la rimozione di uno smalto classico. Faremo la stessa cosa sul pollice e comunque su tutte le unghie dove abbiamo applicato il bubble. Rimuoviamo poi in generale lo smalto da tutte le unghie e per finire sciocchiamo le unghie con acqua tiepida e del sapone neutro. Come vedete la rimozione degli smalti bubble è uguale alla rimozione degli smalti classici. Spero di aver appunto soddisfatto le vostre curiosità. Se avete qualche altra domanda fatela pure sotto il video. Alla prossima, ciao!